Salve ragazzi e benvenuti al mio canale Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video In questo video vi farò vedere le delizie o specialità dall'Irlanda al Regno Unito In pratica qua c'è cibo inglese e italiano e vi dirò pure i prezzi di questo cibo Cominciamo dal primo cibo e poi arriviamo verso la fine Questo si chiama Feed and Chips e costa 3,99 euro l'uno Queste sono patate rosto precotte e costano 1,99 euro l'uno Questo si chiama English Style Snack Box e costa 3,49 euro Queste sono patatine fritte e costano 1,79 euro Questi invece si chiamano patatine In diversi irresistibili gusti che sono tipo Questi possono essere sia Salt e Black Pepper Lightly Salted Un Balsamic Vinegar Guardate E costano l'uno 1,99 euro Pochissimi Questa Irish Lager birra irlandese E qua c'è la descrizione della birra e costa 1,99 euro Questi invece sono formaggi Sono diversi gusti e costano 1,79 euro Con diversi gusti guardate Questa invece è pasta frolla ripiena di carne bovina o torta rustica ripiena di pollo e costa 2,79 euro Queste sono cialde di patate e costano 1,99 euro Questo è formaggio cheddar e costa 2,99 euro Questo è cutney, conserve a base di frutta che costa 1,49 euro Questa è salsa Worcester Ecco c'è la descrizione E costa 2,99 euro Questi sono invece preparato per The Set Che costano 1,99 euro Questi sono yogurt Di diversi gusti Specialità British Style E costano 4,99 euro Questi sono cheesecake Che costano 1,79 euro Biscotti scozzesi al burro Che costano 1,19 euro Preparazione ricoperta con granelle a base di fiocchi d'avene Costa 3,49 euro Poi ci sono i tortini di pasta frolla con ripiena alle mele barami Che costano 1,49 euro Questa è salsa di mirtilli rossi Questa è salsa di mirtilli rossi Qua c'è la descrizione E costa 99 centesimi Questa è preparazione spalmabile al limone Che qua c'è la descrizione sempre Costa 2,19 euro Questa è sciroppo a base di succo di ribes nero Che costa 1,79 euro Queste sono marmellata e confettura extra Che costa 1,29 euro Questo è yogurt cremoso con uno strato di preparazione Alla frutta Che costa 79 centesimi Questi sono biscotti con frumento integrale Digestivi che costano 79 centesimi Mentre questi sono dolcetti con uvetta Che costano 2,69 euro Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un pollice all'insù Iscrivetevi al canale Scrivetevi nei commenti E alla prossima, ciao!